L'Aggiunta regionale e il Consiglio regionale in questi mesi stanno lavorando per dare delle risposte concrete ai nostri cittadini e alle nostre imprese. Con il cura Abruzzo 1 e 2 abbiamo messo a terra nell'economia reale circa 100 milioni di euro. Ieri con la legge approvata abbiamo rifinanziato ad esempio tutte le misure per l'accesso al credito delle imprese per investimenti fino a 5 mila euro. Con questi ulteriori 6 milioni raddoppiamo la misura e finanzieremo tutte quelle attività che avevano detto di fare investimenti nel nostro territorio e ci aspettiamo una leva almeno per 3 di quello che è stato investito perché si doveva fare un investimento fino al 40% per comprare dei materiali all'interno della regione Abruzzo. Questi erano i vincoli del bando. Non ci siamo scordati delle fasce più deboli. Ieri abbiamo finanziato per 190 mila euro degli interventi sociali per i centri diurni per dare loro la possibilità di rimanere aperti anche in questo momento di emergenza. Inoltre con un altro emendamento da aver proposto come primo firmatario è stata approvata una norma che finanzia per 200 mila euro l'ecocanone per gli inquilini delle case popolari ATER della città dell'Aquila. Considerate che la vecchia amministrazione in qualche modo li aveva penalizzati, i canoni che erano dai 15 ai 55 euro sono stati portati dai 250 ai 300 euro. L'unico caso era questo della città dell'Aquila e con questo emendamento viene riequilibrato all'interno di tutto il territorio regionale. Grazie.